Ehi là, salve a tutti, sono ThePay96, mi sono distrutto le corde vocali e benvenuti in questo nuovo episodio, nuova parte, nuovo gioco... no, non è vero niente. Ci troviamo nella Wine Life Challenge 3 su Dark Souls 2 e ci eravamo lasciati qui che avevo appicciato l'incendio nel falò. Quindi io direi di andare subito avanti. Ragazzi, dato che molto che non giocavo a Dark Souls, non sono più bravo come una volta, probabilmente in questo episodio finirà la serie. che finisce veramente le cose me le gufo. Oddio, quant'è sono! Fuggì. Intanto devo stare attento anche al ciccione troll là dietro, perché se quello mi viene vicino... E là là, che schivata! Io ho giocato veramente poco a questa versione di Dark Souls, perché ho giocato molto di più alla versione del gioco base, per cui non conosco molto bene la posizione che hanno messo nuova, dove trovare alcuni oggetti che sono stati spostati e spero che questo non mi causi una morte molto precoce. Intanto qui c'era un'anima, ottimo! Una cosa che non mi è mai piaciuta di Dark Souls 2 rispetto al primo è che per fare... per salire di livello bisogna per forza passare dalla... dall'Araldo a Majula. Una cosa che non mi è mai piaciuta. Qua lo so che hanno cambiato il fatto che... questi nemici infatti non sono più tutti alzati contemporaneamente, ma si alzano quando ti avvicini a loro. Perché prima veramente passavi di qua e schiattavi. Ora ovviamente qua è colpa mia che li sto facendo alzare tutti avvicinandomi. Oddio, oddio! Ragazzi non so perché mi vedo ogni secondo la mia morte. Poi questa spada spezzata che non fa veramente niente di danno, spero tanto che mi droppino... Ah già che c'è quello che tira le bombe! Magari mi metto qui, un pochino più a rifaro dalle bombarolo. La bombarolo! La su! Eeeh! 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 Guarda qua che mi attaccano le spalle ragazzi! Su Dark Souls i nemici sono veramente infami delle volte! Bene! Si sta rompendo la spada! Fortuna che ne ho trovata un'altra! Quindi se riesco ad arrivare velocemente... Eeeh! Se quello non continua a riempirmi di bombe mi fa anche un favore! Dicevo se riesco ad arrivare velocemente in un punto in cui c'è una spada migliore di questa... Perfetto! Si è appena rotta! Vabbè ormai lo finisco così però... Come vedete non fa veramente nulla di danno le armi quando si rompono! Ok! Questo qua siamo riusciti lo stesso ad ucciderlo! Eeeh! 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 Tu non t'alzare! Aspettate che mi cambio l'arma! No! Qui! Arma! 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 Ma... Vabbè sì mi metto... Cioè non mi ammazzano nel frattempo che non guardo! Mi fanno un favorino! Ora qua ho preso tutto se non sbaglio! Sì! Ora devo andare di sopra... Di qui! Per ammazzare quello che mi tirava le bombe! Perché se non sbaglio... Ha il drop del... Che vuole questo? Guarda te se la gente ti deve venire addosso dalle scale e ti tira pure calci in testa! Accogliamo quello che ha droppato... Mi stanno dando troppi coltelli da lancio! Io non li uso mai! Perché preferisco le bombe piuttosto che i coltelli! Dovrebbe esserci qualcuno? No! Perché è quello che è venuto giù... E qui c'era un drop! Ok! Qua c'è un'altra anima! Sono sempre anime in più! Ora se qua non cado... Uddio santo! Questo qua è molto pericoloso! Vediamo se riesco ad ucciderlo in una... No! Questa... Ho fatto un'azione molto pericolosa perché se mi colpiva mentre saltavo... Lì era la mia fine! E ogni volta che salto ragazzi mi viene il coccolone interno! Ok! Adesso qua abbiamo già una spada migliore decisamente! Non fa tanti danni in più però... Almeno... È qualche danno in più! Ora ragazzi io come al solito non metto il... Il cronometro, il timer, la sveglia, il tutto! Per cui non so da quanto registro! Se il video viene troppo lungo... Taglierò l'episodio in due parti comunque! Ora vediamo... Magari tento di arrivare al prossimo falò... E vediamo... Quanto lungo è venuto il video! Ora io... Vado molto bene con le spade... Lunghe su questo gioco! Solo che... Avevo finito la stagna! Ok! Qua non dovrebbe esserci più nessuno! Per cui andiamo avanti! Ragazzi probabilmente... Queste aree... Che ci sono molti nemici... Taglierò veramente poco e niente! Mi ero dimenticato di questo! Perché potrei morire ogni angolo! Soprattutto poco più avanti! Ora qui di solito... C'è gente brutta e cattiva! Ah ne hanno aggiunto anche uno e più! Di solito erano due! Ci ho detto perché ragazzi non so bene... La nuova posizione dei nemici! Ci ho giocato solo una volta questa versione! Non mi ricordo niente! Niente! Ok! Dei dardi che non mi servono perché... Non uso le palestre! Ok! Questa parte adesso... Tipo questi non avevo... Non mi ricordo per niente che esistessero! Allora... Magari siamo attenti! Non farci uccidere! Stupida stamina! Ok! Avrei bisogno dell'anello di... Cloranty... Clorantia? Come si chiama in italiano? Penso si chiami Clorantia in italiano! Perché mi aumenta la rigenerazione della stamina! Cosa che gradirei... Perché... La stamina in Dark Soul è tutto! Se non è quella... Non scrivi... Non pari... Non fai niente... Non fai la cacca... Nei video! Che cosa sto dicendo? Ecco! Questa potrebbe essere la fine? No 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 no! Ok! Adesso là mi sono visto morto! Perché... Dato che ero di schiena... E mi aveva anche sbilanciato... C'era la possibilità che avendomi sbilanciato... Mi tirava due sfadate ed ero finito! Ora andiamo qua su... Al falocchietto... Ok! Qui dietro di solito c'è... Ma di solito era... Sto dicendo che per volte di solito... Normalmente era qui steso per terra... Non era mai già in piedi di suo... Tanto ragazzi chiedo scusa... Anche se l'ho detto ormai a fine video... Se nello scorso episodio... L'audio del gioco era un pochino troppo alto... Rispetto alla mia voce... Però essendo che Fraps non lo usavo da molto... Non sapevo più bene come... Se era già impostato giusto di suo... E a quanto pare no! Allora da questa... Adesso spenderemo un po' di anime... E compreremo... La chiave per Leningrass... E una bomba! Ora voi direte... A cosa ti serve la bomba? Adesso vi faccio vedere io... A cosa serve la bomba... Dopodiché... Allora io potrei andare qua sopra... Essendo che non c'è nessuno... Magari vi taglio la parte che esploro qua sopra... Che raccolgo degli oggettini... Ok ragazzi... Ho appena finito di farmi il giro là sopra... Ora... Prima di proseguire... Che ho visto che abbiamo ancora qualche minutino a disposizione... Utilizziamo tutte le anime che abbiamo... Ok... E torniamo un secondo... Ah! Prima di andare avanti... Ecco giusto... A cosa mi serviva la bomba? La bomba serve a questo... Per chi non lo conoscesse... C'è un piccolo glitch... Mettendosi precisamente in questo punto... Dove c'è anche il messaggio... Se c'è il messaggio comunque lo trovate subito... Vi mettete qui camminando in avanti... Tirate la bomba... E esploderà direttamente lo shortcut... Che si potrebbe aprire solo dall'esterno... State attenti perché se avete poca vita... Lì ci rimanete secchi... Ovviamente... C'è il falò di fianco... Sedetevi prima di farlo... Ehm... Niente... Detto questo... Passiamo un attimo da Majula... Che vado a fare... Qualche livello e apro il coso del... Del fabbro... La porta del fabbro... E vediamo se dovrei avere qualche pezzo di titanite... Per fare qualche potenziamento... Ora... Per farlo andare dentro... Basta aprirgli la porta... Attivare il falò... E uscire... Lui si teletrasporterà magicamente all'interno... Ora qua dentro c'è qualcosa da raccogliere... Che prenderemo subito... Qui c'è una cassa... A posto... C'è l'arco che comunque... Non fa mai male... Poi c'è lui... Adesso saltiamo velocemente i dialoghi... Non comprarmi niente grazie... E vediamo di... Mh... Ok... Un livello lì lo possiamo fare... Ragazzi sicuramente mi starete dicendo nei commenti... Non potenziare le armi iniziali... Però dato che... Quelle iniziali sono quelle che mi possono salvare di più... Io per il momento potenzio questa spada... Anche perché penso... Che se non trovo... Ehm... Un'arma migliore e entro molto breve... Questa qui me la porterò avanti... Un bel po'... Ma questa non è doveva vera... Quindi vediamo di fare almeno un livello... Porto forza a 16... E adattabilità a 6... Mh... Facciamo così che almeno sale anche un pochino l'agilità... La cosa di Dark Soul 2 che fa molto storcere il naso... È appunto il fatto dell'adattabilità... Perché... In Dark Soul 1... Voi sapevate che c'era il Fast Roll... Il Mid Roll... E il Fat Roll... Ognuno aveva tot frame di invincibilità... Ovvero qua nella rotolata c'erano dei frame in cui si era immortali... Praticamente... Su Dark Soul 2... Questo fatto è stato modificato... Con sta adattabilità... Che più è alta l'adattabilità... Più frame di invincibilità si hanno... Per cui... L'aumenterò molto... Me la vedrete aumentare molto... Ora una volta arrivati qui... Andiamo un attimo a raccogliere degli oggettini qui sotto... Dopo direi di chiudere il video... Perché ovviamente viene troppo lungo... Ok... Adesso ammazziamo un po' di gente... Ecco come vedete già... Magari se no mi faccio uccidere... Già la spada... Con solo due livelli... Fa qualche dannetto in più... Non è chissà cosa però... Almeno non ci diamo più velocemente... Invece i tre colpi ce ne vogliono due... Ora qui c'è questo oggetto... Quello lì adesso... Lo andiamo a uccidere... Prima che si alzi... Intanto ho rischiato di cader di sotto... Perché mi si è girata la visuale da sola... Ok... Ora andiamo qui... Qua infatti mi ricordavo... C'era il nemico... Dell'amico... Che non è... Nessuno... E andiamo... Subito qui sulla destra... Bisogna stare molto attenti ragazzi... Perché... Una volta buttati di sotto... Arriverà... Esatto... Un nemico... Adesso ne arriveranno altri probabilmente... O almeno... Di solito ne arrivano anche altri... Ma questo qua fatelo venire avanti... Perché se combattete lì al bordo... Cadete... Come se non ci fosse un domani... Ok... Una volta pulito... Basta salire... Questa zona è molto pericolosa... Perché... C'è l'arciere lì su... Adesso magari... Dato che ho un po' di... Ecco... Appena parlato io dell'arciere... Di coltelli da lancio... Che che mi ha preso? Te... Sei stato tu... L'ho visto... Ho sbagliato tasto... Ora... Sperando che arrivi... Sì... Perfetto... Due dovrebbero bastare avanzare... Esattamente... Uccidiamo questo... Uccidiamo l'altro arciere qui... Perfetto... Qui ragazzi... Prima di proseguire... Ehm... In una scopera... Che... Dove? Dove? Ma... Come fa dalla sua a vedermi? Comunque dicevo... Bisogna scendere qui sotto... Senza... Morire magari... Questo da dove è apparso... Ok... Magari... Usiamo una gemma vitale... Che non si sa mai... Ora... Scendendo qui... Sì... Non ti bloccare... Possiamo raccogliere questo oggettino qua... Che è un frammento di titanite... Che comunque ragazzi... Sapete che la titanite... Almeno chi conosce Dark Soul... Serve a potenziare le armi... Per cui... Conviene sempre averne una buona scorta dietro... Soprattutto all'inizio... Che almeno si potenzia un bel po'... Ok... Adesso... Andiamo lì avanti... Qui... Magari... Stiamo attenti a non cadere... Perché bisogna fare un saltino... What the... La cala... Ok... Andiamo qui... Quella scala serve per tornare indietro... Per cui aspettiamo un attimo qua... State attenti che la prima volta casca giù il masso... No... Ci morite... Perfetto... Neffizio umano... Ora... Parleremo con il... Il bambocetto che sta qui... Che ci darà la chiave della villa di Majula... In cui all'interno possiamo trovare un altro frammento di fiaschetta Estus... Che possiamo utilizzare per... Avere una fiaschetta in più... Cosa che ho notato che non ho neanche equipaggiato... Ok... Una volta presa la chiave... Magari ci spostiamo dalla traiettoria di quello... E equipaggio le fiaschette... Ok... Stiamo attenti a non cadere... Colgo l'ite... E andiamo... Perfetto... Allora ragazzi... Tornerò al falò... Dopodiché concluderemo il video... Ok... A posto... Qua ragazzi serve... Se venite su velocemente potete uccidere l'arciere... Ma se avete comunque... Coltelli da lancio o anche già un arco... Sapete che... È meglio... Ora qua su... È una zona abbastanza problematica... Perché voi direte? Perché... C'è un... Un nemico che è quello lì... Ora prima di... Combattere con quello... Vi consiglio di far... Di spaccare tutti i barili... Che sono esplosivi sti qua... Me lo son visto in faccia... Ok... Ora... Il metodo più veloce per ucciderlo... È quello che state vedendo ora... Ovvero... Ogni volta che fanno attacco... Schivate indietro... E gli fate l'attacco di salto... Questo è il metodo... Più rapido... Se non vi fate colpire... Come ho appena fatto io adesso... Ok... Niente... Quello che mi preoccupava di nemico... Era questo... Ma dato che siamo riusciti ad ucciderlo... In tempi brevi... Ragazzi... La prima volta... Se non conoscete il gioco... Non salite questa scaletta... Perché vi arriva un boss... Vabbè... Quello lì è cattato giù... Quel boss... Lo affronteremo ragazzi... Nel prossimo episodio... Prima dell'ultimo gigante... Prima dell'ultimo gigante... Ora qui... Ci sediamo al palò... Perché tanto rispawneranno comunque tutti... Ok ragazzi... Io direi che anche per questo video... È tutto... Quindi ci vediamo nel prossimo episodio... Da ThePay96 è tutto... Ciao a tutti... Ciao a tutti... Ciao a tutti... Ciao a tutti... Ciao a tutti...